grazie alla mia avanzata la crema pasticcera che cosa posso fare ecco qua maffina limone con crema pasticcera facilissimi e deliziosi aggiungi in una ciotola le uova un pizzico di sale l'olio di semi il succo di limone e mescola bene il tutto a questo punto aggiungi lo zucchero setaccia la farina con lievito la fecola di patate mescola bene il tutto fino ad assorbire tutti gli ingredienti aggiungi anche la scorza del limone grattugiata abbondante mescola ancora il nostro impasto per il muffin è pronto come avete visto ci sono voluti giusti giusti cinque minuti trasferisci l'impasto nei pirottini i pirottini dovranno essere inseriti nell'apposita la teglia per muffin la teglia per fare a questo punto decora ogni muffin con la crema pasticcera aiutandosi con una sac à poche naturalmente puoi creare il decoro che preferisci in forno a 180 gradi statico per 15 minuti ed ecco i muffin pronti aggiungiamo lo zucchero a velo e se proprio vogliamo aggiungiamo ancora della crema pasticcera in superficie troppo buoni grazie per aver seguito anche questa video ricetta alla prossima ciao